Allora, adesso chiamiamo un attore, il nostro amico Antonio Galozzi. Eccolo qua, vieni Galozzi, eccolo qua, il microfono, un applauso. Allora Antonio, scusi un attimo, vogliamo... Ciao, un attimo solo, state con noi. Allora, vogliamo salutare anche la pizzeria di Napoli che ha sponsorizzato. Se ci dai il bigliettino, facciamo vedere lo sponsor, così completiamo e poi dopo daremo, diciamo, i buoni per le pizzerie che ci hanno dato. Bene, allora, salutiamo anche l'amica Marcella con... Dopo, diciamo, anche... Dopo, Marcella, mi sono ricordato. Allora, l'ho messa dritto, no? Sì, sì, sta dritto, sì. Allora, facciamo questa piccola panoramica, questa... Eccola qua, si vede, eh? Sì, sì, sì. La bella Ambriana di Napoli, Casa del Nuovo, una pizza bellissima. Dove noi abbiamo fatto molte scene e spettacoli e anche lei ha voluto partecipare... Beh, bene. ...con regalare due pizze. Due pizze, due pizze. E poi vediamo dopo. Allora, ricordiamo che l'amico Antonio Calozzi, Il morto che parla, ha avuto oltre 700-800 visualizzazioni su YouTube. Tantissime. Tantissime e altre cose che ha fatto con noi. E poi, prossimamente, sarà nell'anteprima, Benvenuti in Allegria, con la regia di Enzo Sorrentino, un film che andrà in tutta Italia. Comunque, sono tantissime risate e ci divertiremo. Lui farà la parte... E' lo viettatore, perché già sta pubblicato, l'ho pubblicato personalmente, e io l'ho scelto come viettatore. In effetti, così non si vede. Ti è piaciuta la parte che ti ha dato? Certo, oltre. Però non l'ho fatto vedere in foto, perché la faremo vedere nell'anteprima. Allora... È bloccata. Allora, Antonio, diciamo... Diciamo cosa... Cambiando per strada, ti hanno conosciuto, ti hanno... Eh, tutti quanti. È il paese mio, tutti quanti aspettano questo corto. Il tuo paese che sarebbe a Frosinone. Dici il nome? Dici il nome? A Frosinone. Sì, Frosinone. Provincia di Frosinone. Non so proprio a Frosinone, ma proprio a provincia di Frosinone. Allora, lui è venuto direttamente... Tutti aspettano questo corto. Quanto esce? E' troppo molto. Poi lo faremo vedere qua a Settivu, in esclusiva. Faremo la conferenza stampa, Salerno, e così via. Bene, facci qualche domanda. Ah, se chi vuole votare? Antonio... Per chi vuole votare Antonio Galozzi? Sempre 3, 2, 8, 26, 86, 5, 1, 9. Bene, Antonio. Qualche saluto per Natale. E gli auguri. Sì, voglio salutare tutti gli amici miei che mi seguono, tutti i miei familiari, i miei parenti. Un grandissimo saluto a un grandissimo amico, Daniele Poggiolino. e il piccolo Giuseppe... Un piccolo Giuseppe. Il piccolo Giuseppe? E tutti quelli che mi conoscono. Ok, grazie. Un applauso. Ciao Antonio, alla prossima occasione. Grazie. Ciao.